E' stato l'Aisis a rivendicare con un comunicato alla sua agenzia di propaganda di riferimento a MAC l'attacco condotto a Kabul da un gruppo di guerriglieri armati di mitra e bombe a mano contro l'emittente televisiva Shamshad, un canale in lingua Pashtun che la trasmette in tutto il paese. Secondo il loro bilancio, sul terreno sarebbero rimasti 20 morti, mentre secondo il portavoce della polizia, al momento si conterebbe una sola vittima accertata, una guardia di sicurezza, mentre i feriti sarebbero numerosi. Le autorità hanno dichiarato che gli assalitori erano tre, di cui uno è stato abbattuto. Secondo le prime discrezioni, un attentatore suicida si sarebbe fatto esplodere all'ingresso della stazione TV per consentire agli altri membri del commando di fare l'irruzione. Sulle telecamere di sicurezza, il rapporto dell'emittente Faisal Zaland, riuscito poi a fuggire da una porta di servizio, ha visto tre assalitori entrare nell'edificio. Prima hanno sparato una guardia, poi hanno cominciato a lanciare granate e a sparare all'impazzata. È stato un attacco alla libertà dei media che non ci ridurrà al silenzio, ha dichiarato il direttore delle news di Shamshad Adibe Esas, dall'ospedale in cui sono stati trasferiti i molti colleghi rimasti feriti.